Ha ha ha! Ho rubato le cose del lavoro di mamma di Avon! Vediamo cosa nascondono! Due vestiti blu Una crema Smoothing with Ultimel Una crema per i piedi Quante creme? Un'altra crema Idri Vita Un'altra crema Smoothie with Ultimel Una crema al miele e yogurt Un'altra crema Molto grande sempre al miele Sembrano proprio buone queste creme Un'altra crema al miele e yogurt Questa è una novità Un'altra crema per le mani Un'altra crema al miele e yogurt Un'altra crema al miele e yogurt Un'altra crema per le mani Un'altra crema per le mani Quante creme! Un'altra crema tre in uno Un'acqua speciale alla rosa Un'altra crema Una crema all'aloe e cucumber Una crema Una crema liter black dress Un'altra crema Un'altra crema Un'altra crema Un'altra crema Un una crema voglio provarlo maia cosa fai? niente mamma sto facendo i compiti ti ho visto cosa? sto facendo i compiti meglio di metterlo dentro prima che se ne accorgi non diteglielo se no se ne accorgi wow quanti cataloghi sono davvero tanti ma che fai qui? che c'è? che c'è ma? niente ho vinto ma che fai? cosa? mamma questo è solo per le presentatrici ciao al prossimo video shhh non diteglielo se no se arrabbierà ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.